Ehi, amore, perché la luce è accesa? Che cosa succede? Non ti senti bene? Dimmi, dimmi. Ho capito. Vuoi che provo a darci una mano, visto che non riesci a dormire? Va bene, posso provare. Scusami, mi sono appena svegliato. Posso provare a fare un po' di ASMR, così che magari riesci ad addormentarti, dici? Ti sembra una buona idea? Secondo me sì, dai. Allora, come ti ho detto però, io ora proverò. Non ti garantisco nulla. Prima di tutto, sei abbastanza coperta. Ho coperto. Io perché ho qua questa coperta molto 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 belosa. che ti posso passare un po'. Va bene? Ecco qua. Tieni. Ok. Sì. Scusa un po' per i miei capelli, ma... Mi sono letteralmente appena svegliato. Vabbè. Allora... Per rilassarti posso provare a fare qualche mouth sounds, a darti qualche bacio. Scusami tanto. Dicevo, a darti qualche bacio. E al massimo. Vedo se ho qualcosa che posso usare. Qualche triggerino, qualche altro oggetto. Ok. Perciò provo un po', va bene? Fammi sapere se ti piace. Ok. E' divertente Scusami un sacco Ho un sonno assurdo Ma non ti preoccupare perché finché non riesci ad addormentarti Starò qua con te, va bene? Scusami un sacco il nostro corso gratuito ok, come ti senti? un po più rilassato rilassata secondo me si dai poi per fortuna stanotte non è neanche, come dire troppo troppo rumorosa che quindi ci disturba tanto devo dire che secondo me è una notte abbastanza tranquilla e va bene vuoi raccontarmi qualcosa tu? intanto qualcosa che hai fatto ieri per esempio ok, ok ok bella è stata una bella esperienza dai scusami se mi senti un po' strano di voce ma potrei avere un pochino di raffreddore spero di non passartelo ad ogni modo ora vediamo un attimino posso ho preso un pacchetto di cozzoletti vediamo di fare qualche trigger con questo un po' strano di Sì Ok Un pochino Hai riuscito a rilassarti Hai riuscito Meno male dai Magari era solo Un po' di tensione Un po' di ansia Che avevi Chi lo sa Beh adesso sono felice Adesso Che cosa vuoi che faccia? Perché c'è ancora un po' di tempo Quindi posso provare a rilassarti ancora Che dici? Mi stendo un attimino Mi stendo un attimino Un attimino Un attimino Mi stendo Un attimino Un attimino Penso Altre cose che posso fare Per rilassarti Adesso vado magari di prendere Un altro trigger Secondo me Può essere carino Sì Secondo me È molto carino Aspetta Eccomi qua Ho preso Questa Spugnettina Che fa un suono Molto molto bello Mi sono un po' Incantato Dietro al suono Però senti veramente Com'è bello Io lo adoro L'appoggio un attimo qua Lo adoro Adesso Posso ritornare Di nuovo La mia pancia A Darti Qualche bacio Va bene? Mi avvicino Mi avvicino Alle due orecchie D From E There Di nuovo Cello 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 Ok, come ti senti adesso? Un po' più rilassata? Un po' più rilassato? Ok, sì, in realtà ti devo dire, io ho messo questa coperta, molto pesante ma non fa tanto tanto freddo, perciò alla fine scegli tu se metterla oppure no, io sono uno un po' frettoloso quindi preferisco metterla, però ovviamente se non vuoi metterla non metterla. A parte tutto c'è qualcosa di importante nel giro della prossima settimana per esempio che devi fare, quindi non lo so, impegni vari in generale. Possiamo anche parlare di verifiche, esami, interrogazioni, robe diverse, qualcosa che riguarda la scuola magari, perché ci andiamo ancora quindi. Ok, ho capito. Vabbè dai, ce la facciamo, ce la faremo ecco. Anch'io sono un po' un po' di cose da fare, ma ce la facciamo dai, ce la facciamo. Ovviamente però un buon riposo ci aiuterebbe ecco. Quindi non lo so, che ne dici di riprovare a metterti giù, a chiudere un po' gli occhi, a vedere se riesci effettivamente a riattormentarti. Che ne dici? Possiamo provare? Guarda. Allora, stenditi un attimino di più, controlla bene di mettere il cuscino all'altezza giusta, le coperte, se vuoi, se no, non importa. Va bene. Io adesso farò un countdown da dieci fino a zero, va bene? E vediamo se riesci ad attormentarti, ok? Sarà un countdown molto lento, con tanti mozzanzi in mezzo, va bene? Perciò dieci, 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 dieci. Nove, 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 oto 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 siente 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 oto sono siente siente oto oto siente oto 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 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 quindi ti do un ultimo ultimo bacio e poi ti lascio dormire va bene? buonanotte 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 Grazie a tutti.